Regala al tuo sorriso una trattazione di bianco in più in una sola settimana, per un nuovo cavolo di soluzione, senza nonche. Collegate il mazzo al tuo anno, in una settimana, una trattazione di bianco in più. Prova l'insegna al nuovo corretore e allo spazzolino mozzo di guarda, per un bianco che dura il mondo. Giacchate, sperimentate e godete di tutte le sensazioni e guste del top gen Turex. Giacchate, sperimentate e godete di tutte le sensazioni e guste del top gen Turex e con il nuovo gel Turex Eterna, scimolatemi il piacere. Finalmente la vista che aspettavi, ogni quattordici giorni in edicola, il mercoledì, semplice, pratica e facile per tutti, solo un errore la valla. Voglio andare a Venezia. Vado solamente a trovare il mio hotel ideale. E quando è giusto, voglio fare il migliore prezzo. Forse è giusto troppo? Hotel, privato. Nella prossima puntata, il mondo cambia velocemente sotto la spinta di invenzioni e di buona. Tra l'orizzonte, uno dei più sanguinari guerrieri della storia. Devastanti epidemie conquistano le città dell'Occidente. La nascita delle prime vatte è un'invenzione che ha rivoluzionato per sempre l'antenne. La stanza, con il migliore di chimene, 20, 32 e 10. Allora, ok. Allo schermo da Tobi, che si espande come una maria. Al posto del migliore di terza del mare, che dice lì. Andate in Roma, calcia su un'esera. Allora, ok. Appena cominciano a migliorare, ci infascono. Perché sotto sotto pensano che sia solo questione di tempo. Perché rispondo cadere dal terzo piano invece che da... Niente di quello che dirai. Allora dimmi che piano succede.